ciao a tutti e bentornati nel mio canale oggi voglio parlare di un argomento che volevo portare sul canale già da tempo ossia i sogni lucidi era già un po che volevo fare questo video e oggi finalmente mi sono decisa i sogni lucidi sono quei sogni in cui la persona è perfettamente consapevole che sta sognando quindi mentre sogna è consapevole di trovarsi all'interno del proprio sogno e riesce addirittura a guidarlo quindi riesce a far accadere nel sogno quello che lui vuole però andiamo con ordine prima di tutto dobbiamo dire che nella fase di sonno REM noi sogniamo e sogniamo sempre e lo facciamo tutte le notti però molto spesso succede di svegliarsi e di non ricordarsi assolutamente i sogni che sono stati fatti al punto da sostenere che quella notte non abbiamo sognato nulla però in realtà il nostro cervello è strutturato in modo tale da portarci comunque a produrre materiale onirico ossia dei sogni i sogni quando sono molto intensi quando sembrano reali quando sono ricchi di particolari vengono definiti sogni vividi però in realtà la persona non ha la consapevolezza di essere in un sogno perché mentre sta svolgendo quel determinato sogno gli sembra tutto molto reale e soltanto al suo risveglio si rende conto che stava sognando quindi non è consapevole di sognare nel momento in cui il sogno si verifica il sogno lucido ha proprio invece questa caratteristica la persona fa il sogno ed è consapevole di trovarsi in un sogno e non solo è consapevole di questo ma riesce a guidarlo questo sogno quindi riesce a far apparire delle persone a farle scomparire a compiere delle esperienze particolari che non sarebbero magari possibili nella vita reale quindi riesce a volare a sperimentare magari poteri magici particolari riesce a fare delle esperienze estreme che non riuscirebbe a fare se non si trovasse nel sogno e la persona riesce anche a guidare la durata del sogno quindi decide quanto tempo durerà il sogno decide quando fermarlo quando interromperlo quando riprenderlo e addirittura ci sono persone che si svegliano mentre stanno facendo un sogno lucido perché magari sono svegliate da qualcosa di esterno e poi quando si riaddormentano riescono a riprendere il sogno esattamente dal punto in cui era stato interrotto è un'esperienza molto particolare molto interessante ma che non tutti hanno occasione di sperimentare tuttavia il 60 per cento della popolazione almeno una volta nella vita ha fatto un sogno lucido almeno questo secondo le dichiarazioni che sono state fatte dalle persone il 60 per cento è una percentuale alta perché stiamo parlando di più di metà della popolazione però le persone che riescono a fare sogni lucidi frequentemente che riescono a guidarli che riescono a vivere le esperienze che vogliono all'interno del sogno sono invece molto minori il sogno lucido si può verificare sia in modo volontario sia in modo spontaneo accade ad alcune persone di fare un sogno normale quindi inconsapevole e di vedere accadere all'interno di questo sogno qualcosa di talmente particolare o di talmente sconvolgente da portare il proprio cervello a difendersi e quindi per difesa la persona è portata a pensare che si sta trovando semplicemente in un sogno questo per difendersi magari da un'emozione che fa paura quindi può essere un incubo ad esempio e in questo caso scatta questo meccanismo e si passa alla consapevolezza che è solo un sogno ci sono anche delle persone che affermano di vivere delle esperienze paranormali all'interno del sogno lucido quindi utilizzano questo mezzo per comunicare ad esempio con i defunti quindi ci sono persone che chiamano il sogno lucido fanno apparire una persona che magari hanno perso comunque una persona defunta decidono di avere con loro un dialogo e sono assolutamente consapevoli che quello è un sogno quindi poi fanno delle domande alle quali vogliono delle risposte sono domande consapevoli e poi decidono di interrompere il sogno quando sono soddisfatte delle risposte che hanno ottenuto questo è solo un esempio di esperienza paranormale all'interno del sogno lucido però ce ne sono delle altre in ogni caso per chi desidera fare questi sogni lucidi e imparare a gestirli ci sono delle tecniche ben precise che si possono apprendere sono delle tecniche che aiutano appunto a capire qual è il meccanismo del sogno lucido e fanno in modo che la persona impari a richiamarlo questo sogno a guidarlo a interromperlo a riprenderlo sono tutte tecniche comunque particolari che non si imparano sicuramente in un giorno però per chi è molto costante molto determinato a voler vivere questa esperienza è una cosa che si può assolutamente addestrare tra virgolette ci sono parecchi libri sui sogni lucidi io vi lascio giù in info box qualche link di libri che ritengo possano essere interessanti sull'argomento sono tutti acquistabili su amazon quindi se volete anche dare semplicemente un'occhiata giù trovate titoli autori e link io personalmente non ho mai vissuto questa esperienza credo che sia interessante che sia particolare ma a me non è mai capitato devo dire che la mia produzione onirica è veramente molto scarsa quindi sono sicura che come tutte le persone al mondo io faccio dei sogni durante la notte ma quando mi sveglio io non mi ricordo assolutamente nulla quindi per quanto mi riguarda potrei dire che io non sogno mai so che questo non accade perché so che tutti sogniamo però io davvero non li ricordo quindi mi capita veramente molto di rado di svegliarmi la mattina e di ricordare un sogno che ho fatto e quindi il sogno lucido ancora peggio nel senso che se non faccio neanche quelli normali chiamiamoli così figuriamoci questi in cui posso addirittura essere attiva ed essere protagonista del sogno quindi è un'esperienza della quale io non vi posso parlare per esperienza personale per vissuto personale ma mi interessa molto comunque come argomento di studio e di curiosità se poi dovessi fare un sogno lucido nella mia vita sicuramente ci vorrò anche fare un video perché figuriamoci se io faccio un sogno lucido e non faccio un video sul canale però per adesso non mi è mai successo fatemi sapere nei commenti se voi invece avete vissuto questo tipo di esperienza se avete mai fatto un sogno con la consapevolezza di trovarvi in un sogno e addirittura la capacità di guidare il sogno facendo accadere quello che volevate voi io come sempre vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto mettete un like al video se vi è piaciuto io vi mando un bacio enorme